Il Codice della Protezione Civile è stato introdotto nel 2018 dal Decreto Legislativo 1 del 2 gennaio di quell'anno. Partendo dalle norme esistenti e in particolare dalla Legge 225 del 1992 che aveva istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile, il Codice è nato con l'obiettivo di semplificare e rendere più lineari le disposizioni di protezione civile, racchiudendole in un unico testo di facile lettura. Tra i vari aspetti, diciamo così, di novità che possono interessare qui maggiormente, il Codice sottolinea la centralità delle attività di formazione e di informazione, prevedendole esplicitamente tra le attività di prevenzione non strutturale di protezione civile. Sono le attività svolte in emergenza a richiamare generalmente una maggiore attenzione dell'opinione pubblica verso la protezione civile e sono di certo le attività di previsione e prevenzione a poter fare la differenza, soprattutto quando parliamo di vite umane, di preservare l'ambiente in cui viviamo, così come i nostri beni. Ecco, la gestione dell'emergenza, la preparazione per fare il massimo in quei momenti, è di certo fondamentale, ma in una società come la nostra, purtroppo spesso non cogliamo quanto si possa fare nel cosiddetto tempo di pace per gestare le basi per tutelare la vita. Abbiamo detto quindi previsione e prevenzione. La previsione è definita dal Codice come l'insieme delle attività svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa dirette all'identificazione e allo studio anche dinamico degli scenari di rischio possibile per le esigenze di allertamento e di pianificazione di protezione civile. La prevenzione, invece, consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre, la possibilità che si verifichino danni, conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite con le attività di previsione. Avete inteso quindi che in protezione civile si distingue la prevenzione strutturale da quella non strutturale, ma non si danno due pesi diversi, sono entrambe centrali. Le attività di prevenzione strutturale, per citarne alcune che sono puntualmente indicate nel Codice, sono la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo per definire le politiche di prevenzione strutturale dei rischi e per attuare tali politiche la partecipazione alla programmazione degli interventi per mitigare i rischi. L'esecuzione di questi interventi fa parte di queste attività. Anche le attività di prevenzione non strutturale, che ci riportano al cuore della missione della formazione, sono numerose e sono varie. Dall'allertamento alla pianificazione di protezione civile, dalla informazione alla popolazione sugli scenari di rischi e le relative norme di comportamento, all'organizzazione delle esercitazioni, dalla formazione alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. Ed è così che dice espressamente il Codice di protezione civile, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini. Il Codice, infatti, in più punti del testo e poi in un articolo specifico, l'articolo 31, intitolato Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, ha introdotto in modo diretto e puntuale proprio il principio della partecipazione dei cittadini finalizzata alla maggiore consapevolezza dei rischi e alla crescita della resilienza delle comunità. E' una partecipazione che può realizzarsi in vari ambiti e che può essere del cittadino come singolo o come parte di un gruppo in forma associata. E questa partecipazione attiva non ha limiti di età. Ecco il perché di questo breve corso e del lavoro fatto per avere il numero zero del fumetto, L'attimo decisivo, di cui troverete la storia in un apposito video, fatto per avvicinare ragazze e ragazzi a conoscere i rischi e renderli consapevoli del fatto che ognuno di loro può davvero fare la differenza con le azioni, anche quelle quotidiane. E per avviare un percorso che possa fornire a voi docenti elementi informativi, indicazioni, materiali di approfondimento in merito ai principali rischi naturali e antropici a cui è esposto il nostro Paese alle attività di protezione civile. Per concorrere a costruire comunità attivamente consapevoli vorremmo e dovremmo riuscire a contestualizzare sempre meglio anche le buone pratiche, strutturali e non strutturali, per prevenire il rischio di disastri o per affrontare le situazioni di emergenza che dovessero verificarsi. Perché uno stesso evento, come un terremoto della stessa forza, può avere effetti notevolmente diversi da una regione a un'altra, tra territori all'interno della stessa regione e, lo abbiamo visto direttamente, anche tra zone o edifici all'interno dello stesso comune. Queste mini-lezioni sono state realizzate con il contributo di colleghi del Dipartimento della Protezione Civile e di alcuni centri di competenza del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che forniscono servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in specifici ambiti. In queste brevi lezioni potrete quindi trovare elementi e spunti in riferimento a quattro principali rischi che caratterizzano il nostro Paese e con i quali si troveranno a che fare anche i personaggi del fumetto. Terremoto, maremoto, alluvione e incendi boschivi. Ma sono anche altri i rischi che caratterizzano l'Italia. Pensiamo al rischio vulcanico e sono rischi che possono presentarsi anche insieme. Portandoci a parlare, ragionare e pianificare in un'ottica di multirischio. L'Italia, infatti, è tra i Paesi più esposti ai rischi naturali e legati alle attività dell'uomo. È questo che ha reso necessario un sistema che assicuri in ogni area la presenza di risorse in grado di intervenire in tempi brevi e in maniera coordinata in un'emergenza, ma anche di operare per prevedere e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri. Per questo motivo, in Italia, la protezione civile non è un compito assegnato ad un singolo ente, ma una funzione attribuita a un sistema che è integrato ed è il Sistema Nazionale della Protezione Civile ed è composto da strutture pubbliche e private, centrali e territoriali. All'interno del sistema le competenze nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle situazioni di emergenza sono affidate a più enti e strutture operative perché la complessità del panorama nazionale dei rischi richiede l'impiego coordinato di tutte le professionalità e le risorse a disposizione del Paese. È perché nel titolo quinto della Costituzione, così come è stato riformato nel 2001, la protezione civile è elencata tra le materie a legislazione concorrente, per cui, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, il potere legislativo spetta ai governi regionali. Ogni regione, infatti, si è organizzata con un proprio sistema di protezione civile. Se elenchiamo le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ci rendiamo conto che coinvolgono in concreto tutte le istituzioni. In particolare, le componenti sono le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali. Le strutture operative, invece, comprendono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, gli enti e gli istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, il Volontariato Organizzato di Protezione Civile, l'Associazione della Croce Rossa Italiana, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Spilologico, il Sistema Nazionale per la Protezione delle Ambiente, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale. Il Codice, poi, indica gli ordini e i collegi professionali, come gli ingegneri, i geologi, ma anche i giornalisti, enti, istituti, agenzie nazionali, aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni di protezione civile, che sono quindi impegnate nelle attività che rientrano nella previsione o nella prevenzione dei rischi, nella gestione dell'emergenza o nel superamento di questa fase. Questi sono soggetti che concorrono alle attività di protezione civile. Come vedete, quindi, davvero l'intero Paese, con il fulcro nel ruolo del cittadino consapevole, del cittadino informato, del cittadino preparato, del cittadino parte attiva del sistema. La protezione civile dei nostri anni è quindi il risultato di una storia che ha radici lontane e che va di pari passo con quella del Paese. È stata l'esperienza maturata nella gestione delle emergenze, a rendere chiaro nel tempo che per un'efficace azione di tutela della vita e dell'ambiente sono necessari coordinamento di tutte le forze in campo. È un impegno che non è solo centrato sulla fase dell'intervento.